salve amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale oggi ho portato per voi dei filmati davvero interessanti prima di cominciare però voglio ricordarti di iscriverti al canale e di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti ma adesso basta parlare cominciamo un certo gior ramirez ha caricato questo video e racconta che lui e un suo amico mentre viaggiavano con la loro auto si fermano davanti a un edificio abbandonato i due ragazzi rimangono in auto riprendendo l'edificio col telefonino ad un certo punto notano qualcosa di strano all'entrata dell'edificio questo è ciò che è stato filmato arrivati davanti all'edificio i due ragazzi rimangono in macchina e notano due occhi bianchi che appaiono all'improvviso rimanendo lì per pochi secondi per poi scomparire potremmo ipotizzare che forse quei due occhi potrebbero appartenere a un gatto o qualche animale notturno ho visto e rivisto le immagini anche da vicino e ho notato che quegli occhi sembra che non abbiano un corpo fisico ciò mi porta a pensare che potrebbe essere una qualche entità che si nasconde dentro quel luogo comunque fatemi sapere la vostra nei commenti il prossimo video è stato filmato in colombia il filmato mostra un uccello sospeso in aria guardando bene le immagini l'uccello non batte affatto le ali ma rimane lì bloccato nel cielo come se il tempo per lui si fosse fermato lì questo è ciò che è stato ripreso Emiliano Perez è una guardia di sicurezza che durante il turno di notte in una fabbrica mentre era in servizio riprende una strana ombra nera passare proprio lì vicino a lui a una velocità incredibile ciò che viene ripreso è davvero impressionante il prossimo filmato è stato catturato da una telecamera di sicurezza il filmato mostra un gatto nero che va vicino a alcuni rifiuti il gatto rimane vicino a quei rifiuti per un po' di tempo dopodiché se ne va e i rifiuti incominciano a prendere fuoco il fuoco continua ad espandersi ciò attira la curiosità dei passanti che si fermano lì a guardare osservando quel fuoco appiccato da chissà quale entità questo filmato mostra un oggetto mentre viene bruciato sembra che l'oggetto abbia una specie di maledizione ciò lo porta ad avere alcune trasformazioni il filmato è davvero impressionante con... ciò f так ciò fhabito ciò stanno dimostando ciò manifestando ciò non ciò stanno il che è stato? sta salendo dal piso che è stato? come una culebra come una culebra come una culebra come una culebra ahi sta ahi sta nooo si sta cargadissimo che è stato cargadissimo ahi va si sta manifestando non ci ahi va ahi sta trovarsi di fronte a fenomeni paranormali non è mai una cosa semplice soprattutto quando questi fenomeni accadono in casa tua come nel caso di quest'uomo che ha realizzato questo filmato una sera degli strani rumori provenienti dal seminterrato attirano l'attenzione dell'uomo che decide di scendere giù per controllare una volta sceso si troverà di fronte qualcosa di inaspettato qualcosa che lo terrorizzerà a morte questo è ciò che è stato filmato non 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 no non siamo arrivati al termine ragazzi spero che i video vi siano piaciuti fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate è noi come al solito ci rivediamo alla prossima Ciao Ciao